Un centinaio di agenti tra polizia, carabinieri e polizia locale hanno controllato i depresidi contrapposti in un sabato mattina che si annunciava potenzialmente ad alta tensione per il centro storico di Padova. Tutto è andato nel migliore dei modi, dalle 10 in piazza delle Erbe il presidio antifascista organizzato dal centro sociale Pedro per opporsi alla presenza in piazza Antennore davanti alla prefettura del leader nazionale di Forza Nuova Roberto Antofiore arrivato in città per ribadire il suo no all'interrogazione parlamentare del deputato PD Alessandro Zanna che all'indomani dell'inaugurazione avvenuta due sabati fa della sede del movimento all'Arcella aveva chiesto al Parlamento di pronunciarsi sulla sua chiusura. Una cosa che noi sentivano mai dal 98, dal 99 questo tipo di cose ma non avvengono mai perché è impossibile sia dal punto di vista legale e sia dal punto di vista politico non si può fermare una formazione che ha delle idee così chiare e così rivoluzionari da tutti questi anni. Padova antifascista hanno ribadito a gran voce una trentina di aderenti ai centri sociali dei portici di piazza delle Erbe dove si erano rifugiati a causa della pioggia. L'inclusione, l'apertura, la solidarietà, l'antirazzismo sono un discorso che appartiene a tutti in questa città. Noi rifiutiamo la logica degli opposti estremismi, rifiutiamo la logica della guerra tra bande perché è una cosa che nostro parere è sterile e porta veramente a qualcosa che non è utile per nessuno. Però rifiutiamo anche messaggi di odio e violenza e sappiamo rispondere punto su punto. Questo assolutamente non transigiamo. Una mattinata chiusa senza incidenti di nessun tipo via San Francesco è stata bloccata alle auto da un fitto e discreto cordone di forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza di tutti e risposto alle domande di padovani e turisti incuriositi dalla loro presenza.